Oggi andiamo a vedere l'incrociatore europeo di livello 10 Svea. Vi ricordo che si può acquistare all'interno dell'armeria scambiando il vostro acciaio per la nave. Potrete inoltre utilizzare i coupon per avere uno sconto ulteriore. Considerate che il tutto parte da 30.000, con lo sconto la pagherete circa 22.500 di acciaio, se ricordo bene. Questo incrociatore è davvero molto molto particolare e vi dico fin da subito che richiede il capitano speciale abbastanza obbligatorio per attivare i propri talenti. Esperto di silure e ancora di più esperto della contraerea. Possiamo dire inoltre che abbiamo, questa è la corazzatura della nave, cercate di non farvi colpire nella maniera più assoluta. Resistenza 38.100 punti, cannoni da 152. Qui potremmo aprire tantissime parentesi perché, per esempio, altri cannoni da 152 nel ramo europeo li troviamo con il Ragnar. Non cannoni paragonabili perché quelli del Ragnar vanno a sparare più rapidamente, se riuscissi a selezionare, d'accordo. Comunque, rimanendo in tema Svea, abbiamo inoltre siluri che arrivano fino a 13.500, due torrette con quattro siluri a testa. Attenzione, i siluri saranno ben distinti, quindi sul lato destro avremo quattro tubi e sul lato sinistro avremo quattro tubi. Non è un qualcosa di unico, altrimenti sarebbe troppo potente l'attacco con otto siluri per lato. Incursione aerea per attaccare sommergibili fino a otto chilometri. Difesa contraerea, signori, qui vi voglio la vostra attenzione. 6.9 la portata, 443 il danno continuo, 2275 dalle esplosioni, ne abbiamo solo quattro. Manovrabilità abbastanza rapida anche nella rotazione con la pala del timone. Mimetizzazione, veniamo spuntati a 9.3. Attenzione perché la parte bella è la seguente. Mettete tutti i potenziamenti che il gioco vi suggerisce. Tranne nella seconda srotto io vado a mettere sorveglianza radar modificata 1 più 20%. Abbiamo radar che arriva a 9 km, fumo rapido, recupero vita, sovralimentazione migliorata del 30%. Non so se iniziamo un attimino a capire quante cose mette a disposizione questo incrociatore. Bandierine, tutte quelle che vedete, obbligatorie. Capitano, nel dettaglio, si apre una possibilità di gestirlo come meglio credete. Allora, io nei miei test sto provando ingrassatori di equipaggiamenti. Specialista di consumabili, ricarica dei siluri con tubi pieni e i siluri saranno carichi in 63 secondi, ricordo bene. Altrimenti 70 se non metterete questa skill. Scarica di adrenalina migliorata all'asterisco. Sovrintendente obbligatorio. Esperto di sopravvivenza obbligatorio. Occultamento obbligatorio. E poi qui si apre la parentesi. Esperto in difesa con tre aree antisommergibile. L'incrociatore potete veramente giocarlo come preferire. Si potrebbe pensare di mettere spoletta inerziale per avere una penetrazione di 37. Con i 152 però avreste 7,5 di incendio. Potreste mettere, non so, addirittura addestramento per il fuoco concentrato. E anche esperto di demolizioni per una nave ancora più di supporto. Veramente ci sono tantissime combinazioni. Per oggi vediamo quella appunto a schermo. Per quanto poi riguarda la mimetica abbiamo la mimetica permanente predefinita. Che è comunque carina. Per quanto poi riguarda i cannoni, piccolo dettaglio. A prua avremo la torretta trinata. Mentre poi a poppa avremo le due torrette binate. Così si presenta la nave Svea. Che è un incrociatore con stile cacciatorpediniere. Stile incrociatore. È un cacciatorpediniere un pochino più grande. E il che è fantastico. È proprio quello di cui il gioco aveva bisogno per ulteriori problemi. Per i nemici. Ragazzi vi chiedo un semplicissimo mi piace. Per supportare il vostro intrattenimento quotidiano. Il lavoro che svolgo sul mio canale YouTube. Un commento e una condivisione sarebbero davvero molto apprezzati. Per aiutare tutto il processo di crescita. Grazie a tutti coloro i quali mi seguono con tanta passione. Andiamo a vedere una partita semplice. Come sempre. Però andiamo proprio a vedere i dettagli di questo incrociatore. Di cui io mi sono già follemente innamorato. Via. Andiamo a giocare una partita con la nostra nave Svea. Siamo nella mappa 8. Modalità supremazia. Una portaerei. Tre corazzate. Quattro incrociatori. Tre cacciatorpediniere. E un sommergibile che si trova esattamente nella nostra zona. Perfetto. Allora andiamo ad attivare la sovralimentazione. Piccola nota personale. Dovete sapere che io con tutte le navi del gioco. O perlomeno con la stragrande maggioranza. So perfettamente quanto ci mettono ad arrivare. In termini di secondi. Da quando spawnano. Che sono ferme. Fino magari alla zona di interesse. Quindi in questa circostanza. A me interesserà sapere. Quanto ci mette questa nave ad arrivare. Dal proprio spawno. Fino in questa zona. Che dove si possono lanciare i seduri. Sì lo so sono infognatissimo. Ci gioco da 10 anni. Ho 18.000 partite. Sono in RAN. È normale che mi faccio tutti questi calcoli. D'accordo. Stile un pochino caccia torpediniere. Perché? Perché io devo sapere. Con estrema sintesi. Quando posso lanciare i miei seduri. Come vedete noi qui arriviamo in orario. Ci sono state altre partite dove avevo la ricarica dei seduri. E si ricaricavano troppo presto. Quindi diciamo che come tempistica ci siamo. Qua noi possiamo fare semplicemente un doppio lancio. Facciamo uno. Pirata secca a destra. E lanciamo a sinistra. Ovviamente questo è per cercare di beccare il cacciatore torpediniere che sta passando. È per cercare magari di beccare qualsiasi cosa. D'accordo. Quindi sono lanci preventivi. Sono lanci nel vuoto. Sono lanci per cercare un qualcosa che probabilmente c'è. Tra l'altro lì vedo un po' di antiera. Quindi effettivamente qualcosa sta passando. È d'accordo. Cariche dei... Per i siluri. Per le cariche di profondità le abbiamo provate. Tanto va bene così. Se Yongon non ha la ricerca edofonica. Quindi posso anche un pochino flancare a destra. Arriva la malta. Senza paura. Un'occhiata. Un occhio sempre. Perfetto. Potremmo anche disattivare l'antiera noi. E poi attivarla. Potrei farlo tranquillamente. C'è l'ipiranga. D'accordo. Radar per vedere dove si trovano i nemici. Il commissare ha sparato e quello fa male. Penetrazione migliorata con i proiettili HE. Quindi mi fa molto male. Penetra sempre. Sommergibile nemico. Non c'è traccia. Abbiamo qualche carica. Boost. Sono spottato. Quindi c'è il sommergibile da qualche parte. Eccolo. Sta là. Ovviamente gli aerei non arrivano perché... Ci sta la... L'antiera nemica, no? Radar quasi pronto di nuovo. Va benissimo. Ho eventualmente il fumo. Loro non hanno possibilità di vedermi se metto il fumo. Perché non hanno radar, non hanno nulla. Quindi ci stiamo un attimino in questa manovra di... Uno, due. Ho un po' paura del movimento del commissare. Ok, lui è appena entrato nel... Ok, sta avvenendo per me. E fra, occhio perché io sto manovrando qua, eh. Cioè, mi sta anche bene che la malta provi a venire da me. E io me ne vado nel fumo. Show. Posso rimanere all'infinito qua. Lo so che adesso hai fatto male i conti e vuoi scappare, fra. Lo so perfettamente. Solo che adesso io termino il fumo. Solo che lui è in allontanamento. Potrei anche evitare di... Di sparare ulteriormente. Due silui da quella parte. Vabbè, lui va con le secondarie. Si vendica leggermente. In realtà io avrei già il fumo attivo. Il disponibile. Quindi non lo so. No, possiamo rimanere tranquilli così. Tranquilli, respiriamo. Non è successo nulla. Colpi in arrivo prevedibilissimi. E ci stanno. Mi allontano leggermente. Virata secca. Aspetta, non viriamo perché se no ho mostrellato l'ipiranga. Un po' di aerei sulla malta. Colpi del seiong mi fanno sorridere. Virata secca a destra. Perfetto. Io lancerei anche siluri. Sì. Ma sta bruciando per un incendio mio? Sì. Perfetto. Vanguard. Fra, che sfiga. Nel senso... Con quella nave di livello 8. Qua non ti protegge nessuno però, Fra. Qua non ti protegge nessuno. Vediamo se riesco ad avvicinarmi ulteriormente. Ottimo. Occhio al commissar. E qui vedete... E' normale che uno vorrebbe avere tutte le skill, no? Per poter avere il danno ulteriore delle cariche di profondità. E' normalissima, sa. Dobbiamo capire bene dove sta... Ti proteggo io, tranquillo. Radar. Io direi di andare indietro tutta. No, Fra. Ho il fumo. E sto andando indietro tutta. Wow. Questa nave è illegale. Ho di nuovo il fumo. No, vabbè. Nave tattica... Pazzesca. Boost attivo. E' per qua lui. Ma lui veramente vuole... Vuole confrontarsi contro la mia antiaerea. Ma che fa la portiera nemica? Ma veramente vuole perdere tutti gli aerei? Solo che il radar ora... Sono un po' carente. Ne ho usati molti. Secondo me sta per fare sorveglianza radar il nostro 2501. Aspettiamo un po' di rinforzi. Anche il Vanguard è pur sempre una corazzata. Anche se è di livello più basso. Facciamo attenzione perché il Seiyong con l'AP potrebbe... Non so se è mi cittadella. Tecnicamente suppongo, suppongo, suppongo che mi faccia male. Evitiamo. Ho di nuovo il fumo. Ragazzi. Ma è una cosa assurda. È veramente una cosa assurda. Cioè, è... Non so come commentare. Non so veramente come commentare. Andiamo indietro perché comunque arrivano... Perché comunque arrivano... Perché comunque arrivano... Arrivano. Abbiamo fatto 0 kill ma abbiamo fatto 54 aerei. Nave tattica ed è semplicemente pazzesco con quale velocità i consumabili si possono... L'ho anche preso 5635. Diciamo che la kill non è arrivata per un semplice... Poi io esco nel momento meno opportuno e vabbè lo taglio. Potrei essere one shotato però ho di nuovo... Di nuovo il fumo però. Che ha dell'incredibile. Dove vai? Quello che ho solo un cannone, quello frontale con il trinato. Oh, posso dire la verità. Mi sono divertito. Mi sono veramente divertito. Non ho più radar purtroppo. Sicuramente in arrivo va bene. 48.000 danni ma... Secondo me questa nave ha un potenziale veramente... Sconvolgente. Ok perché... Vabbè la nave andata giù figurati. Solo una nave giù. È una nave tattica che... Wow. Poi si è trovata anche la porta aerea che in qualche modo voleva... Voleva farci male ma non ha capito nulla. Quella partita termina qui e va bene. 49.000. 62 aerei. 62. Signori. Che nave, che consumabili. I consumabili fanno di questa nave praticamente tutto quello di cui avete bisogno. 62 aerei. Abbiamo fatto esattamente 1999. Se avessimo fatto la kill con i secco di mano non si va da nessuna parte. Stalingrad erano fatti 50. La Malta non so come cavolo ha giocato. Rapporto dettagliato abbiamo fatto male dove abbiamo potuto. Crediti elevate le varie spese. Portiamo a casa esattamente 947.000. Puliti puliti. E' semplicemente una nave fantastica. Avrete un quantitativo di consumabili davvero infiniti. E ovviamente utilizzando la skill esperto in difesa contro aerea e antisommergibile. Questi consumabili verranno ricaricati ancora più velocemente. Quindi la vostra nave rimarrà ancora più operativa. Non ho avuto modo di lanciare troppi siluti perché alla fine la partita mi ha portato a giocare in uno spazio relativamente ristretto in quanto la porta aerei non mi lasciava respirare più di tanto. Nave molto consigliata anche se come primo acquisto per quanto riguarda le navi in acciaio ovviamente la scelta è piuttosto varia. Quindi bisognerebbe vedere anche un pochino il vostro stile di gioco. Io comunque sia mi trovo molto bene e sono ultra felice di avere la svea nel porto con me. Ragazzi video terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti, le visualizzazioni. E noi come sempre ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao! Ciao!